Sicuramente è difficile perché utilizzare i dispositivi così come sono richiesti crea parecchio disagio, è difficile proprio supportarli per il respiro. Eh già, il Covid entra anche in sala parto e si insinua tra le pazienti, ma anche nell'operatività dello stesso reparto, tra camici e mascherine da tenere, percorsi destinate alle pazienti Covid e quelle no. E soprattutto delle ostetriche che voglio dire seguono anche questi travagli che possono essere lunghi e quindi sempre vestite dentro si cerca di fare meno, mescolare meno possibile il personale in modo tale che ci sia questo rapporto one to one con la paziente. Mascherine tenute dalle mamme anche in sala travaglio, anche se nel momento clou è concesso toglierla e sempre con le adeguate attenzioni in sala parto ci sono anche loro, i papà. I mariti possono entrare in sala parto assistendo a tutto il percorso del parto, il travaglio, anche il bagnetto del bambino, dopodiché evitiamo di farli entrare durante l'adegenza proprio perché il numero dei posti letto è elevato, sono 42 e perché è anche difficile gestire appunto anche i papà. Nonostante il Covid però le attenzioni verso le mamme e i loro piccoli neonati non sono mai mancate e non mancano consentendo quel rapporto mamma figlio fondamentale fin dalle prime ore. Noi infatti garantiamo alle mamme proprio l'accoglimento del bambino dopo la nascita, da subito anche la mamma positiva Covid che è asintomatica può allattare il bambino con le dovute misure di sicurezza, con la mascherina, lavandosi le mani eccetera. Attenzioni misure che hanno consentito al reparto centro di riferimento Covid, 100 persone, di rimanere quasi indenne al Covid.